Aria di novità, è quella che si respira in casa Fidelisandria e non solo per il recente avvicendamento in panchina tra Mirko Cudini e Diaududu, quest'ultimo confermato per la trasferta di Domenica a Crotone dopo l'1-1 all'esordio nel derby contro il Monopoli. In casa Bianco Azzurra si vivono infatti ore calde per la questione societaria con il presidente Aldo Roselli che da qualche settimana ha messo in vendita il suo pacchetto di quote. Sono quattro al momento le cordate interessate al club, due delle quali in pole rispetto alle altre. Una di queste porta all'imprenditore americano Dave Crocket, già main sponsor dall'estate. L'altra conduce all'ex presidente del Monopoli, Alessandro Laricchia, in attesa di sciogliere il nodo sul futuro societario e tempo di valutare anche le potenziali novità sul piano tecnico. Come ogni cambio di allenatore che si rispetti, anche quello tra Cudini e Diaudu ha rimesso in gioco diversi giocatori rimasti sin qui fuori dai piani o ai margini del progetto. Nel caso della Fidelis si potrebbe allestire un'intera formazione. Tra i pali c'è Filippo Vandelli, tornato in bianco azzurro da tre settimane per l'infortunio di Savini e titolare nelle ultime due gare di campionato. In difesa c'è chi sprinta per essere protagonista in corsia e Pietro Ciotti, 23enne fondamentale nella seconda parte della scorsa stagione e autore di una prestazione importante da subentrante contro il Monopoli. In cerca d'autore sono invece Matteo Pinelli, 21enne arrivato dal Sassuolo e sin qui schierato per appena 47 minuti, il centrale classe 2004 Aldo Graziano alla prima esperienza con i senior e sin qui impiegato per 90 minuti solo in Coppa e Fabio Delvino, tornato utile nella difesa a tre e ora chiamato a ricollocarsi in un reparto a quattro. A centrocampo ci sono Gianmarco Alba, appena 10 minuti contro il Messina in un avvio di stagione condizionato dagli infortuni e Endri Zenelai, talentino del 2003 arrivato dal Sassuolo primavera ma sin qui in campo, quasi solo in Coppa. Suo coetaneo è Malik Jibril, titolare domenica scorsa con profitto contro il Monopoli. Ricca è invece la proposta di giocatori a caccia di continuità in attacco, reparto sin qui andato a segno solo con Orfei e Bolsius. Giacomo Tulli ne è l'icona, prelevato nel 2021 dalla Feralpi Salò, il 35enne romano ha vissuto un'estate da separato in casa, rimasto ad Andrea, sin qui ha giocato appena 18 minuti in Coppa ad Avellino. 34 sono i minuti in campo per Lorenzo Persichini, attaccante centrale arrivato dal team Nuova Florida ma frenato dagli infortuni. 86 quelli di Giovanni Mercurio, talentuoso 2003 di proprietà del Bari, che sin qui ha vissuto tante panchine. 11 nomi che chiedono spazio nella Fidelis targata Dudu che respira aria di novità dentro e fuori dal campo.